Ed eccoci, doveva essere il primo incontro collettivo di idea impresa, quest'anno però le cose sono andate diversamente, ci siamo visti diciamo non costretti ma ci sembrava giusto decidere subito se fermarci, aspettare e rimandare le cose sperando che il tempo insomma sarebbe stato clemente o se metterci alla prova anche noi perché insomma in fondo ci siamo detti il tema è la trasformazione digitale, le soluzioni inerenti ai bisogni impellenti sono quelli che insomma dobbiamo trovare con immediatezza, con i mezzi che ci mette a disposizione la tecnologia e allora abbiamo deciso di fare in un modo diverso. Non siamo in auditorium, siamo all'interno dello spazio PID della Camera di Commercio, ho chiesto a tutte le persone che avevamo invitato come ospiti per il 4 marzo di registrare i loro contributi e devo dire che è andata benissimo nel senso che sì è vero ci siamo organizzati in pochissimo tempo ma tutti non hanno avuto dubbi rispetto a quello che era da fare per cui questa giornata invece che in auditorium la faremo registrando questi contributi che a breve vi metteremo a disposizione e su cui potete fare delle riflessioni e poi anche magari fare delle domande che ci manderete via email e che gireremo a tutti gli ospiti che avremo intervistato oggi e quindi vi dico io spero che tutto questo vi piaccia, vi serva e anzi ci siamo detti forse può essere un modo alternativo anche per poter ritornare su questi contributi in maniera più riflessiva e non diciamo spenderli in un incontro unico e poi soprattutto voi potrete usufruirne secondo i tempi insomma che avrete a disposizione Intanto vi rinnovo l'in bocca al lupo a tutti e vi lascio con il primo contributo che ci è portato da Gaetana Mariani che è componente della giunta della Camera di Commercio di Como e Lecco con delega alla formazione Grazie a tutti